Cominciò tutto quando l'agenzia mi chiamò per un altro di quegli impieghi temporali. Buongiorno. Buongiorno, prego, si è come. Il mio nuovo capo era il direttore della galleria. È una metamorfosi esteriore. Interiore? Esteriore, guarda il limone. E la forchetta? Oh, la forchetta è irrilevante. Adoravo il modo in cui parlava e mi sarebbe piaciuto diventare come lei. Ricordo che una volta un ragazzo mi disse... Che mi disse? Sì, che mi disse che ero mentalmente scordinata. Salve! La prego, continui pure a parlare. Non si preoccupi. Faccio solo due passi. La vita è proprio la cosa più strana che esista. Eh sì. La vita è proprio la cosa più strana che esista.